Le occorre il parere di un esperto in un caso giuridico? Ha la sensazione di essere stato imbrogliato dal suo partner contrattuale? Ha delle incertezze su un determinato argomento di natura legale e vorrebbe un consiglio da un professionista? AXA ARAG è al suo fianco come partner con la consulenza legale PLAS per qualunque domanda sul diritto svizzero.